La Formula 1 è uno sport nel quale per vincere è necessario possedere un mix perfetto di elementi, una macchina veloce, affidabile, che faccia funzionare per le gomme, una squadra duttile, affiatata e in grado di risolvere gli imprevisti, un team manager con le palle e ovviamente l'abilità e il carattere per imporsi in decine di circuiti in tutto il mondo. Nel corso degli anni però sono stati commessi molti errori da parte di piloti che per svariati motivi hanno cambiato team, peggiorando notevolmente il loro prestigio se non addirittura chiudendo in maniera disastrosa la loro carriera in Formula 1. La classifica di oggi infatti si baserà su tre fattori principali, il team che è stato abbandonato e gli obiettivi raggiunti da quest'ultimo, i risultati ottenuti nel nuovo team in relazione alle premesse e quanto questo cambio ha influenzato il perseguo della carriera del pilota. Tutto chiaro? Iniziamo! Numero 10 per Niki Lauda, Brabham 1978-1979. Niki Lauda nel 1977 riuscirà a conquistare il suo secondo titolo mondiale con la Ferrari dopo il tragico incidente del 1976 che rischia di riporre fine definitivamente alla sua carriera. Nonostante il titolo nel 1977, Lauda lascerà la Ferrari con due gare di anticipo per unirsi alla Brabham Alpha nella stagione 78, causa di Sidi proprio con il Drake che gli aveva preferito Reutemann dopo il suo incidente al Nürburgring. La goccia che farà traboccare il vaso va ricercato nel ritiro volontario in Giappone che permetterà a James Hunt di giudicarsi il titolo mondiale con un solo punto di vantaggio proprio all'ultima gara. Ad un primo sguardo l'avventura in Brabham nella stagione 78 non andrà affatto male con due vittorie e sette podi e un quarto posto in classifica piloti. Tuttavia le due vittorie si verificheranno in situazioni a dei poco particolari. La prima vittoria in Svezia verrà ottenuto grazie al famoso ventilatore che porterà la FIA a bannare la Brabham BT46 entro la gara successiva, in quanto troppo pericolosa per i piloti in scia dovuta ai detriti sparati da quest'ultimo. La seconda vittoria fu dovuta alla doppia squalifica di Andretti e Villeneuve per jumpstart, tuttavia non va dimenticato che quella gara fu marchiata dal terribile incidente di Pettersson, incidente che gli costò la vita e la lotta al campionato. Nonostante queste non esaltanti premesse, Lauda nella stagione 79 rimarrà alla Brabham dove farà una delle sue peggiori stagioni in Formula 1, causa soprattutto di un monoposto inaffidabile che non gli permetterà di ripetersi guadagnando solo 4 punti, figli di un sesto e un quarto posto, collezionando ben 11 ritiri su tre giri corsi. La situazione sarà così tragica che Lauda, il terzo ultimo GP, deciderà di ritirarsi dalla Formula 1, ritornando nel Circus ben tre anni più tardi, nel 1982, alla guida di una McLaren dove scriverà una delle pagine più belle della storia della Formula 1. La Ferrari invece, mentre Lauda raccoglieva ben poco, nella sua linea 78 collezionerà 5 vittorie e 9 podi per profare doppietta nel 79 con due piloti Ferrari nei primi due posti del campionato piloti, vinto da Jody Schachter con Villeneuve alle sue spalle e dominando il campionato costruttore con ben 6 vittorie e 13 podi. Nona posizione per Arturo Merzario, Isum Alboro 1974 Arturo Merzario è sicuramente un grandissimo campione che nonostante i suoi incredibili risultati nel campionato sport prototipi, in Formula 1 ha dimostrato di avere sempre fatto le scelte sbagliate. Nel 1973 la Ferrari esordirà con una delle peggiori vetture mai costruite, con la quale tuttavia sia X che Merzario riusciranno ad ottenere discreti risultati. Per il 1974 Enzo Ferrari offrirà un contratto al pilota italiano, tuttavia Arturo deciderà di unirsi al team Iso Malboro di Frank Williams, dove otterrà solo 4 punti. L'anno dopo farà qualche comparsata con Cooper Succar e Williams non ottenendo punti, per poi terminare in maniera disastrosa la sua carriera in Formula 1 con il suo team Merzario. Coglierà come unico risultato di rilievo, se così possiamo definirlo, un quattro dicesimo posto in Austria nel 77 con tre giri di ritardo sul bagnato, tra l'altro nemmeno con una Merzario costruita da lui, ma con una marce dell'anno prima. In quegli anni invece Ferrari ritornerà ad essere la prima della classe, lottando con Regazzoni nel 74, perdendo un mondiale all'ultima gara e dominando nel 75 con l'Auda, vincendo il campionato piloti e costruttori con 6 vittorie e 12 podi su 14 carri disputati. Numero 8. Emerson Fittipaldi, Cooper Succar 1976-1980. Emerson Fittipaldi va sicuramente lodato per il coraggio dimostrato nell'aver abbandonato una scuderia vincente come la McLaren, team che gli permetterà di vincere il mondiale nel 74 e di lottare nel 75 per difendere il titolo dalla Ferrari di Lauda. Tuttavia nel 76 contro ogni pronostico deciderà di diventare l'alfiere della scuderia brasiliana del fratello, la rinominata Fittipaldi Cooper Succar. L'ottava posizione è sicuramente giustificata sia dalle premesse non proprio saltanti della scuderia brasiliana, dalla quale non ci si potesse aspettare granché, che dalle prestazioni della McLaren, che vincerà un titolo pilota nel 76, anno di abbandono di Fittipaldi, verificatasi però in condizioni ad irpoco fortuiti ed infatti negli anni seguenti la McLaren non riuscirà più a lottare per il titolo, addirittura dal 78 all'81 non riuscirà a vincere nemmeno una gara. Nonostante ciò va detto che Fittipaldi con la Cooper Succar guadagnerà ben poco con soli 37 punti e due podi in 60 gran premi disputati tra il 1976 e il 1980, portandola al ritiro dalla Formula 1 e rinascendola negli anni successivi nel campionato americano kart. Numero 7 Maldonado 2014-2015 Lotus Il cambio di scuderia di Maldonado non è sicuramente un esempio di tempismo perfetto. Dopo due stagioni di inferno alla Williams condita con l'unica e unica storica vittoria in Spagna nel 2012, Maldonado si farà ammaliare dal nuovo team Lotus che con Recon e Negrosian è riuscita nel BN 2012-2013 a collezionare due vittorie e ben 23 podi, piazzandosi stabilmente come quarta forza del mondiale dopo Red Bull, McLaren e Ferrari. Il cambio team si rivelerà un disastro. Nel 2014 infatti il nuovo regolamento turbo-ibrido sarà interpretato malissimo dalla Lotus, partoreando una macchina che risulterà bruttissima oltre che inguidabile. Nel 2014 Maldonado guadagnerà un magrissimo bottino di 8 punti e nonostante un leve miglioramento nel 2015 con 27 punti conquistati, Maldonado si ritirà dalla Formula 1 andando a correre nel WEC dove non farà affatto male. La Williams invece nel 2014, sicuramente aiutata dalla Power Unit Mercedes, azzeccherà il progetto, conquistando 9 podi e il terzo posto nel campionato costruttori, ripetendosi nel 2015, sempre nel campionato costruttori, mantenendosi su buoni livelli, con 4 podi e una costanza di quarti e quinti posti da fare paura. Numero 6, Yarno Trulli, 2005-2009, Toyota. Yarno Trulli nel 2004 vivrà una stagione a due facce, una prima parte positiva dove bastonerà un certo Fernando Alonso per poi terminare in maniera molto deludente faticando ad entrare in zona punti. Verso le ultime gare, visti i risultati e le versioni da parte della scudere francese, Trulli deciderà di affrancarsi alla Toyota, che in quegli anni stava investendo miliardi di dollari per vincere il Formula 1. La scelta di Trulli sarà purtroppo ricordata come uno dei più grandi fallimenti in Formula 1. Non assente i capitali e l'ingegnere di primo livello, Trulli nei 5 anni successivi riuscirà a conquistare solo 7 podi e 130 punti in Formula 1, chiudendo la sua carriera un anno dopo con la diludente Caterham. Dopo la Formula 1 si butterà in Formula E con la scudere di sua proprietà, doveterà solo un quarto posto a Monaco e nel 2016 si riterierà definitivamente dalle corse, dedicandosi alla vinicoltura con discreto successo. D'altro canto invece, mentre Trulli faceva fatica a salire sul podio, Renault nel 2005 e nel 2006 vincerà tutto con Alonso aggiudicandosi due mondiali piloti e due costruttori con un bottino di 16 vittorie e ben 34 podi. Quinto posto, Jean-Alesi, 1996-1997 Benetton. Situazione inversa per lo sfortunatissimo pilota francese di origini italiane, che nel 1996 con l'arrivo di un armante Schumacher due volte campione del mondo proprio con la Benetton, rifiuterà di rimanere alla Ferrari come secondo pilota per puntare al titolo nel 1996 con la scuderea campione del mondo in carica. Tuttavia questa scelta si rivelerà sbagliata per varie ragioni. Innanzitutto vi fu un travaso di tecnici dalla Benetton alla Ferrari causato dall'ingaggio di Schumacher. Successivamente lo nuovo monoposto sarà sostanzialmente una rivisitazione della BT 195 dell'anno prima, che si rivelerà sì veloce ma con molti problemi di affidabilità. E infine a riequilibrare le carte in tavola, Williams progetterà un missile che non darà la possibilità al pilota francese di lottare per il mondiale. Alesi nei due anni in Benetton non farà malissimo, ma guadagnerà sicuramente meno di quello che avrebbe voluto. Non riuscendo mai a lottare per il titolo, con 13 podi e un sacco di ritiri pesantissimi, mentre lottava per la vittoria. Alesi poi abbandonata la Benetton finirà la sua carriera in Formula 1 con scudere di bassa classifica come Sauber, Prost e Jordan, senza mai riuscire a riscattarsi. La Ferrari invece proprio con Schumacher ricomincerà a vincere con un buon 96 con 3 vittorie e 9 podi e un ottimo 97 in cui la Ferrari vincerà 5 gare lottando fino all'ultima gara contro la Williams di Villeneuve. Quarto posto, Patrese 1993 Benetton. La quarta posizione di Patrese è invece molto particolare, perché se guardiamo bene la scudere a Benetton nel 1993 non la possiamo definire una scelta sbagliata. La Benetton veniva da anni di buoni risultati e difatti Schumacher vincerà un gran premio e con 9 podi conquistati si insedierà stabilmente al quarto posto nel mondiale pilota. E il problema sarà proprio Schumacher. Patrese nel 1993 soffrirà tantissimo la competitività del tedesco, tanto che nonostante i buoni risultati ottenuti, ovvero 2 podi e 20 punti, abbandonerà la Formula 1 alla fine di quell'anno. Scelta discutibile se poi andiamo a vedere cosa farà la Benetton nel 94, ma soprattutto la Williams che nel 93 gli offrirà di milanieri in squadra al fianco di Alain Prost, diritto nell'anno sabbatico. Williams infatti dominerà nel 93 e vincerà il titolo costruttore nel 94. Insomma, un cambio sbagliato da ogni punto di vista, che sicuramente non ha giuvato alla sua lunga carriera in Formula 1. Terza posizione per Eddie Irvine. Jaguar 2000-2002. Eddie Irvine nel 1999 lotterà fino all'ultima gara per il titolo mondiale contro la McLaren di Micacchene. Tuttavia, delle gomme smarrete nei box AGP d'Europa e dei presunti mancati sviluppi della monoposto nella seconda metà della stagione, da parte della Ferrari, porteranno Eddie ad abbandonare la scudire di Maraneno nel 2000 per guidare la nuova Jaguar, figlia dell'ottimo lavoro fatto da Stewart nel 1999. Le ottime premesse e la motorizzazione ufficiale Ford non porteranno però ai risultati ispirati, con una miniera di diritiri e qualche sporadico podio, furto più di situazioni particolari che di effettiva competitività della monoposto. In tre anni, Eddie Irvine conquisterà due podi, 20 punti e ben 25 ritiri su 50 gran premi disputati, chiudendo nel 2002 la sua carriera in Formula 1 in seguito alla richiesta della Jaguar di 5 milioni di dollari per farlo correre nel 2003. Ferrari invece, proprio nel 2000, vincerà il primo titolo piloti dopo 21 anni inaugurando i 5 anni di dominio rosso marchiati in Michael Schumacher. Secondo posto per Jacques Villeneuve, bar 1999-2003. La proto di Villeneuve alla bar non è la precedente nella storia della Formula 1. Il campione del mondo 97, contro ogni aspettativa nel 1999, deciderà di lasciare una Williams in crisi motoristica per unirsi alla neonata Barr, scuderia di proprietà del suo manager Craig Pollock. Scuderia nata dalle ceneri della Tyrrell, che poteva disporre di ottimi tecnici, una sostanziosa sponsorizzazione della British American Tobacco e di un campione del mondo di primo livello. Le aspettative saranno immediatamente altissime, con Pollock che millanterà di poter vincere una gara nella stagione d'esorio del team. Ovviamente tutto questo non si verificherà con ben 0 punti nella prima stagione, frutto di 11 tiri consecutivi, una macchina decisamente inaffidabile e una squadra all'esorio lentissima nei pit stop. La situazione migliorerà leggermente, ma a me è abbastanza per poter vincere un Gran Premio. In 5 anni in bar Villeneuve conquisterebbe infatti solo 2 podi e 39 punti, lasciando la bar alla fine del 2003. L'ironia della sorte vorrà però che nel 2004 la bar arriverà seconda nel Mondiale costruttori con 11 podi in a pole position, facendo intendere che forse il vero problema della bar fosse proprio lo strapagato pilota canadese. La Williams invece dal 1999 inizierà a risalire la china grazie alla motorizzazione BMW iniziata nel 2000. Otterrà negli stessi anni di voto totale della bar 9 vittorie e 34 podi, lottando nel 2003 con Montoya fino all'ultima gara per il titolo piloti. Primo posto, Fernando Alonso, McLaren 2015-2018. L'esperienza McLaren di Alonso è a dir poco pessima. Dopo 5 anni a Marnello, condito da molte delusioni come i due mondiali persi all'ultima gara, Alonso deciderà di tornare alla McLaren, che gli proporrà un progetto difficilmente rifiutabile. Nel 2015 infatti Honda sarebbe tornata a motorizzare McLaren. Il mitico dualismo che aveva fatto sognare milioni di persone negli anni 90 prometteva di tornare a vincere in Formula 1. Tutto ciò condito da una fornitura gratuita di motori e un cospicuo stipendio di diversi milioni di dollari al pilota asturiano. Le dichiarazioni come da copione saranno a dir poco ottimistiche. Durante la presentazione del nuovo monoposto, l'hashtag sarà proprio makehistory. In un'intervista Alonso dichiarerà alla stampa, voglio riscrivere un capitolo di questa nuova avventura. Beh, sicuramente Alonso scriverà la storia, ma di una delle più grandi delusioni in Formula 1. La stagione 2015 è talmente disastrosa che l'unica nota di colore sarà la famosissima dichiarazione GP2 Engine al GP di Suzuka. Durante i tre anni motorizzata Honda, la McLaren dimostrerà di non riuscire a sfruttare il motore nipponico, che verrà editato come il principale problema e talone da chile della vettura, definita col miglior telaio in Formula 1 da Ron Dennis. Ovviamente ciò non si rivelerà a vedi chiaro, in quanto sia Toro Rosso che Red Bull dimostreranno l'opposto, permettendo a Verstappen di vincere a 3 grand premi nel 2019 ben due podi alla Toro Rosso, sempre nel 2019, proprio col motore Honda. Infatti il passaggio al motore Renault nel 2018 non cambierà la già difficile situazione della McLaren, che faticherà a trovare continuità dimostrando che vi erano problemi in Italia al team indipendenti dal motore. Alonso nei 4 anni con McLaren guadagnerà solo 132 punti, 31 punti in meno che nella sola stagione 2014, corsa con Ferrari, 2014 che è inoltre la peggiore stagione che Ferrari ricorda dal 1992 a oggi. Mentre Alonso faticherà per la nona e ottava posizione, nei 4 anni McLaren, Ferrari con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen lotterà per il mondiale sia nel 2017 che nel 2018, con 15 grand premi vinti e ben 70 podi. Alonso nel 2018 si riterirà dalla forma 1, causa mancanza di stimoli, per approdare nel campionato WEC che vincerà con Toyota nel 2019, per poi annunciare nel 2020 il suo terzo ritorno alla Renault del 2021. Sarà una scelta vincente o andrà ad aumentare la lunga lista dei peggiori cambi di team della storia della formula 1? Io gli auguro il meglio, per il resto però staremo a vedere.